Ok, oggi proveremo a rispondere alla difficile domanda che cos'è lo yoga. Lo yoga è una disciplina che con una serie di tecniche mira a controllare il corpo, il respiro e di conseguenza la mente. Quindi l'obiettivo, tra virgolette, l'obiettivo finale dello yoga è il controllare la mente e il vedere la coscienza per quello che è. Però ci sono tanti obiettivi più piccoli, intermedi, che magari sono quelli che ci portano a praticare lo yoga, come il diventare più flessibili, quindi dominare il corpo e il respirare, dormire, mangiare meglio. Anche questi riguardano il corpo e la mente. Ma l'obiettivo finale appunto è quello che riguarda un qualcosa di puramente mentale. Quindi lo yoga non è solo quello che facciamo sul tappetino e non è solo una serie di esercizi che man mano nella pratica diventano sempre più difficili, ma è anche l'obiettivo stesso. Lo yoga è l'unione della coscienza con se stessa, il vedere le cose come stanno. Questo è un obiettivo ovviamente molto alto, molto difficile da raggiungere e magari all'inizio non ci pensiamo neanche, ma questo dovrebbe essere il vero scopo dello yoga. Spero che con questo breve video abbiamo chiarito qualcosa o come dire, aperto la via allo yoga appunto. Grazie, ciao!